è arrivata forse che cacchio è arrivato il ghiaccio ciao amici no no quella è la mia è bella tutt... no quella era la tua no ciao nemici dice no e ciao a tutti amici bentornati in questo mio nuovissimo video che non è proprio tuo nel senso sarebbe con i tudor si però oggi c'è una specie di vendita che dobbiamo fare comunque bentornati in questo video è dal 1900 che non ne caricavo allora abbiamo preso il ghiaccio perchè abbiamo una piccola vendetta per tudor vendetta che tra l'altro sarà servita fredda molto fredda anzi in una vasca fredda visto che sono due anni che ci fa scherzi su scherzi stavolta lo scherzo glielo facciamo noi anzi più che altro stavamo dicendo che lo scherzo glielo facciamo noi ma essendo servito freddo oltre perché c'è il ghiaccio perché è uno scherzo che lui vuole fare a noi l'abbiamo scoperto per il suo speciale 400.000 hai scritto ne ha 700.000 ma vabbè secondo me perché ne ha saltato qualcuno ecco quindi visto che lui ci continuava a chiedere perché ci prestati la vasca che bella la vasca abbiamo scoperto perché voleva usare la nostra vasca voleva farci fare a noi questa cosa qua e quindi adesso noi la stiamo facendo al contrario venite con noi quanto cacchio abbiamo preso 40 kg è gelato e caccio dentro la vasca stiamo preparando tutto prendo le forbici un cacchio e fallo coi denti sono 20 kg di ghiaccio perché pesano 20 kg comunque è ghiaccio esageriamo mettiamo gli altri l'acqua gelata vabbè facile ok allora cerchiamo di prendere il resto mentre sabrina sistema pesa come un cadavere ok ok e voilà l'acqua bella gelata tirata giù ancora ancora lo vuoi fare sto scherzo o no? dai fallo fare a un vero uomo povero tu darmai non ti dispiace nemmeno un po? dopo due parti con l'addormentato gli scherzi a Sasha gli scherzi da Brina effettivamente no non mi dispiace la tua madre è incinta la tua madre è incinta la tua madre è incinta ultimi 10 kg ok non scendi giù va giù è già arrivato devo e muoviti muoviti un attimo un secondo sono in doccia ma sempre quando mi seguo ma viene bene cratino uè ciao a tutti Vini che hai fatto oggi? sono due parti sin fiori come sempre niente perché? non possiamo registrare? stavamo progettando un video figo che sarebbe fatto? un video per i canali di Sasha non male sei arrivato giusto in tempo così non lo facciamo da soli vado con il capello blu ma no no un attimo no lasciamo pure tutto qua è una cosa importante perché stavamo preparando il tutto e non è apparente quella roba dei video scarti eh ah dobbiamo farlo per il suo canale pure io io so Giulio però guarda uno zaino muoviti siamo a casa me lo facciamo in bagno ma aspetta mi sistema un attimo che c'è i capelli e dopo dopo non ti preoccupare mi hai mai nato dai ah se vedete cos'è? chiudi la chiave chiudi la chiave no 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 e perchè lo giriamo in bici? come ti devi andare a rifrescare? non ce lo fai tu no 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 e io ho speciali 400.000 iscritti e cos'è che ci vuoi fare? preparare? non ce lo fai bene e non dire tutto questo e non te l'hai invece per te ma tu sei gerabianne vai te abbiamo sgamato no ed abbiamo anche preparato un sacco di domande bastano tesori no raga no bella ghiacciata infatti non lo sei strumento mica chifo mi dispiace zii poi io volevo prima probabilmente raccomando acqua caldo ma lei non parla delle bollette no 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 si adesso tu no 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 e io ti faccio le domande io ti faccio le domande ma che cazzo sai tu le domande? io le domande super cazzo vediamo che cazzo le sei tutte risposte zio che ghiaccio porco tu l'hai sentita? che tocchi? ma che vuoi? zio l'idea di te sarà mia io l'ho scritto in modo diverso però almeno puoi levarti le scarpe te lo concediamo eh? puoi levarti le scarpe hai capito? perchè finchè ho avuto 25 delle 20 domande tu non esci cosa? io ho fatto pure le domande ma carta carta bello pochina no togliti un po' stamagliettino no no non mi sa non me posso togliere la maglia per le scarpe ma famolo tra un mese mo c'è una parecchia no assolutamente se è rosso polare non dovresti sentire freddo senti ma fu il curo ahia che soltanto mi sta male come ci vuole se questo video arriva a 150.000 lo fate voi due o almeno solo tu la prima volta che cacchio vuol dire io lei? fate insieme? va bene 400.000 viaggiamo un po' vai 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 quanto ti devi tornare al dottore che viaggiamo? che vuoi farà? che sai? è un bagno ragazzi questa la parai oddio cosi siamo a luglio cominciamo ti sto facendo un favore cominciamo vai zio comincia no no scendi cazzo vai vai sbrigati sei in culo che cazzo mi hai messo? cazzo mi hai messo? titanic sbrigati sbrigati non mi sbrigati ssssss partiamo con qualche domanda difficilotta tanto sei bravo ci sono sbrigati sbrigati ci sono 95 ah ma che pesce? sbrigati se mi trovo a Hamilton sono nella capitale di che stato? eh? eh? buca se mi trovo a Hamilton sono nella capitale oggi sono sono nella capitale di che stato? a permuta b antiolandesi 3 messico 4 isole vergini britanniche isole vergini britanniche la tua risposta definitiva? giuste gambe sbrigati è sbagliata andiamo su una nuova sono messe veloce allora questo è che sei tanto un po' che parli di baguette ma stai giuendo se aia sbrigati non mi posso sbrigare non mi fai il cazzo dai quanto è alta la tua Eiffel? 100 metri 200 300 450 ma che te sei a quell'acqua calda 100 200 300 450 dammi l'indizio tanto o poco? 300 ma cosa non è poco 300 è tanto? tra le 3 e 4 ti devi muovi ti devi muovi ma sei fermo qual è il largo più grande del mondo? qua non c'è risposta pubblica lago vittoria che è il monopoli il parco vittoria lago vittoria lago vittoria si chiama mar caspio mi dispiace è sbagliata quando hai detto lago hai detto? ma caspio eh che cazzo vuoi dire mar caspio è sbagliato lago è quasi la risposta ma non è così oh mio dio un mare un mare un mare chiuso a un lago amore ha aperto l'acqua che cazzo stai facendo che cazzo fai la sfiglia a te? che raga ti distruggo vabbè un po' più facile dai passare i bambini cioè che cazzo provo nell'acqua io eh vabbè giocaci insieme questo è semplice tranquillo almeno mi indivini la prima in che anno vi fu la sconfitta di Caporetto? 1917 si giusta ma come facevi a saperla? non ci credo c'è Caporetto ma c'è il telefono ma chi è Caporetto? andiamo andiamo un attimo zio sei lento zio sei cazzo lento ascolta io non leggo per il senso chiaro aspetta in che continente si trova la Patagonia? argentina no ma ci sono le domande vale il doppio vale il doppio se ti arrivo così Europa Milano Oceania America del Sud chi cazzo ha scritto chi cazzo è la scritta che se lo mandi vuoi poi essere Milano rispondi America del Sud bravo giusto siamo a due aperto l'acqua aperto l'acqua Nino non fredda basta dai fermami dai alla prossima non farai più stavamo dicendo allora sì sei un attimo che non lo facciamo più ah sì no ha chiuso ah ma aperto volevo dire che cazzo è qua che cazzo è qua oh zio no chi attraversò le alti con gli elefanti per conquistare l'Italia Annibale Annibale ma sei scema ho sbagliato scusa questa è facilissima visto che tu sei basta questa è inglese ma se non lo sceglieto è facile change your side black or white the dog is on the table quattro risposte giro insieme a Walter White vendo il fumo in mountain bike diamo e capirai non lo so Walter White di mountain bike no eh giro insieme a Walter White 1 fai giro insieme a Walter White è sbagliata e la vendo il fumo in mountain bike ma l'ho detto mountain bike ma l'ho detto mountain bike e no ho detto mountain bike oddio dove andiamo sotto questa ghiaccia raga e tanti saci un mare scuro scuro quattro risposte un mare scuro scuro il mio cesso quando cago il mar seppia quando affondano la petroliera il mar nero scusa sasha ma dove le hai prese ste domande ma l'hai scritto un commento ah le hai fatte tu l'ho fatto io non vado avanti se mi lascio la roba cazzo come ti prendi noh che schifo e zio il mar nero il mar nero bravo bravissimo ok e c'era l'ultima ragazzi l'ultima e se la indovini puoi uscire da te stai dentro ah 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 zio zio c'è una cosa figata dentro eh eh zio è come secondo me il Titanic come è affondato con un pezzo di ghiaccio c'è domanda di storia ok sei bravo di storia mi sembra hai risposto al lima del prima con la peste a bordo di una nave veniva essata la bandiera di quel colore nera rosa tenda gialla o marrone ma stati dentro bufu hai al culo ho simentato un ghiaccio nel culo rispondi marrone sbagliata era gialla il soprannome di re d'italia Umberto I di Savoia bono no buono no no romano no 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 ma lo scirocco è un vento caldo o freddo eh lo scirocco è un vento caldo o freddo non lo so sia la prossima no caldo o freddo è caldo no zio ma tu mannaggia non ti rispondi mannaggia non sbrigati ma lo diamo questa fatica voglio no buonissime a me no no non lo so che meglio non lo so che ah ecco deve lanciare un ghiaccione in stronzo lo manzo il tuo ragazzo svingati l'ho perso ma svingati perché libri o conigliano labbro superiore di viso perché va di moda perché sono caduti in bici per lasciare scopervi i denti che rosicchiano bravo che cazzo mi fai lasciare scopervi i denti che rosicchiano bravo oh cazzo dallele nel cappatoio eh non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo cazzo guarda che cazzo kuare cazzo tieni e se lo lavai le cappatoio cazzo che cazzo ragazzo c'è un asciutto guadagnoso Ma ci trattiene il freddo quella Aia, Sasha mi fai male, io non metto un cazzo Sembra il tutto un camon Allora raga fammo che, ripeto, se arrivi a 150 mila e fammo un speciale di 600 mila, loro due A caso, se c'è Vi do 50 ore a testa, non arriviamoci Coglione E niente raga, vi voglio bene, un saluto e un abbraccio a tutti E vai a fare la doccia calda ora, va Bella Ciao Ciao